Ehi gruppo, sono qua con Dima al laboratorio. Oggi vi faccio vedere quella che è la linea premium, la barra di rinforzo, i denti come vengono settati e quella che è la logica che c'è dietro alla linea premium. La linea dentale moderna è una linea che prevede dei denti che vengono posizionati nel paziente in maniera coerente con quello che è il viso. Ovvero quando noi sorridiamo, ok questa è Dima, sorridi, smile, vedete che il sorriso di Dima sta nello spazio, nelle tre dimensioni dello spazio, in maniera coerente, non ha i denti che sono in alto oppure non ha un'arcata che è tutta stretta, sbilanciata, è bilanciata rispetto agli zigomi, il viso, il naso, l'altezza della bocca è bilanciata rispetto al terzo medio, al terzo superiore. Quando si mettono gli impianti dentali, ok, noi abbiamo un problema che quando si mettono gli impianti dentali, gli impianti si posizionano nell'osso, là dove c'è osso, ok, noi non possiamo mettere gli impianti dentali in posizioni differenti. Delle volte io posso avere un impianto dentale che è più interno, uno che è più esterno, uno che è più lontano, uno che sta più verso il palato. Pensate a quei pazienti che fanno impianti zigomatici, che si ritrovano l'emergenza dell'impianto qua, in questa zona. Da qui nasce un problema, che quando noi dobbiamo mettere tutti i denti, non mettiamo un impianto per un dente, ma dobbiamo mettere tutti i denti, che delle volte sono 14, come in questo caso, delle volte sono 12, come in questo caso dipende dalla dimensione della bocca del paziente. Però dobbiamo, su questi sei impianti dentali, andare a realizzare una protesi con tutti i denti, ma con un numero differente di impianti. E delle volte hanno, anzi, più delle volte, quasi il 100% delle volte, ci ritroviamo che se noi uniamo tutti questi impianti e creiamo un arco, ok, questo arco quasi mai corrisponde con l'arco dei denti che dobbiamo mettere. Anzi, delle volte ci troviamo che l'arco degli impianti dentali è un arco asimmetrico, mentre l'arco che dobbiamo realizzare con i denti, questo è un arco simmetrico. Da qui nasce il problema. Nelle linee passate, quella che era la metalloceramica, non era possibile andare a fare dei denti con una simmetria perfetta rispetto al viso e rispetto agli impianti dentali. E se voi andate a vedere nelle pagine di chi fa il turismo dentale, quello non fatto bene, troverete che ci sono dei denti storti, arcate così, cos'ha? Perché quelle sono le classiche linee metalloceramica fatte a caldo, dove i denti seguono la linea, l'arco degli impianti dentali. 24 anni fa Paolo Malò ha inventato il protocollo Malò, che prevede l'utilizzo di una barra che va a unire gli impianti dentali e separa quello che è il problema dei denti, della simmetria rispetto alla faccia dei denti, rispetto alla simmetria dell'arcata implantare. Questa è una barra che ci permette, vedete qua sotto, di unirci agli impianti dentali e andare a posizionare poi dei pin all'interno dei denti. Qua vedete i denti dentro ai quali vengono a inserirsi, si vanno a inserire questi pin di rinforzo, di connessione, e ci permettono così di mettere i denti nella bocca del paziente esattamente dove devono andare. I denti li mettiamo in asse dritti nella bocca del paziente, questa è un'arcata che deve ora essere rifinita, vedete che è stata immersa completamente all'interno della barra in titanio, ma la barra in titanio unisce gli impianti là dove ha messo gli impianti il chirurgo. Gli impianti dentali, vedete, che possono avere delle posizioni diverse all'interno dell'osso. L'impianto si mette là dove c'è l'osso, non è che mettiamo l'impianto dove dobbiamo mettere il dente, se no ci ritroviamo poi impianti che sono fuori dall'osso, che perdono osso e che non hanno possibilità di durata. Sopra questi impianti dentali poi si va a unire la protesi, si vanno a unire tutti gli impianti con la barra interna che sta immersa all'interno della protesi che andiamo a confezionare. Poi sopra alla protesi, sopra la struttura, troviamo i denti. I denti devono essere posizionati nel viso, là dove le regole estetiche ci dicono, non dove il chirurgo ha messo gli impianti dentali. Questo è il concetto rivoluzionario che c'è dietro alle linee dentali moderne, con le protesi metalloceramica questo non poteva essere fatto ed eravamo molto molto limitati dal punto di vista estetico, proprio dal fatto che non potevamo separare il problema degli impianti dentali dal problema protesico della protesi. Io vi faccio un saluto qua da Laboratorio Bocca Bionica con Dima e con Vasile.